Musica Ok ragazzi siamo arrivati alla lezione di arti oscure Tutte le studentesse sono innamorate del prof Ah i folletti Oh finalmente Impareremo ad abbatterli Bloccato Bloccato E pietrificato anzi Stia attento prof Gli hanno rubato il parrucchino E se lo scambiano lo prendono in giro Povero prof Allora fermiamo sti Fermiamo sti Folletti Ok Distrutto No no Harry no Non voglio bloccare Harry Ne manca ancora uno Perfetto Sconfitto Ha visto prof che bravi che siamo E vabbè però anche lei Me li ha liberati tutti E' scappato via No dobbiamo fermarli No dobbiamo fermarli tutti quanti Vai Hermione Che sei la prima della classe Mettiamoli Sono facili eh Sono facili eh Vai vai sono anche veloci Vieni qua Vieni qua Ok ce l'abbiamo fatta Immobulus Mattoncino d'oro L'ho sbloccato Prof ce l'abbiamo fatta Che si fa adesso Allora possiamo andarcene E dobbiamo andare A parte il fatto che qui c'è qualcosa Sono volati via i libri Fantasma Ci dice che dobbiamo andare di qua Ah è vero È vero Dobbiamo sfidare Malfoy La nostra squadra è già pronta Eccoci qua Ok eccoci qua Altra partita contro il Serpe Verde Sei in ritardo eh Harry Dai sbrighiamoci Si cambia Stile Superman Però lui dietro una botte Superman dentro una cabina telefonica Non sarà una partita facile Ecco il boccino Non è il boccino quello St'attento Accidenti È stato manomesso eh È stato manomesso È finito il gelato è finito In faccia all'altro personaggio Guardate che roba Come ci insegue È Dobby È colpa di Dobby Dobbiamo fermarlo Andiamo Vai Ermione Ciao ragazzi Ci date una mano Ok perfetto Dovevamo praticamente lanciare il bolide Contro la parete Perché dobbiamo costruire una scala Ottimo Possiamo procedere Dobby Cosa combini Fai il bravo È sparito di nuovo Adesso dove caspita si è cacciato però Ah dobbiamo tirare questo Abbiamo attivato un ascensore Una specie di ascensore Dobby Fai il bravo Blocchiamo i due folletti Li abbiamo eliminati in 448 Questo lo cacciamo via Abbiamo liberato il boccino d'oro Dobbiamo costruire qualcosina Una specie di scala Anche perché si qui non c'è più nient'altro A parte degli striscioni Dobby è lì sopra Dobby fai il bravo Guarda come scappa Ti prenderò Dobby Ti prenderò È sparito di nuovo Ho sbloccato un pezzo dello stem E Il sasso mi sa che dobbiamo Attaccarlo lì Allora spostiamoci in un'altra zona Tipo qua sopra Eccolo Dobby Fai il bravo Dobby Dobbiamo beccarlo ancora due volte Si è nascosto lì dentro Tira Hagrid Cosa abbiamo liberato Un gargoyle Abbiamo liberato un gargoyle Che se ne va così Allora qui dobbiamo costruire una scala La solita Ottimo Eccolo Ancora un colpo Ancora un colpo Prendilo Ah è sparito di nuovo È lì dentro Qui c'è qualcosa da spostare Un altro striscione C'è un quadro Un quadro dei serpe verde Come faccio ad arrivare fin là Ah potevo scendere di qua Non avevo visto Ciao Che ci dite ragazzi No non ci dicono niente Ci sono i folletti Ermione prova ad abbatterli tu Perfetto Bloccati entrambi Bye bye Possiamo attraversare Dobby Sei nostro Vieni fuori Eccolo Preso Ah non puoi più scappare Vai Harry Preso Vittoria No Il proiettile l'ha colpito Povero Dobby È stato distrutto Oh ti arric... No Peggio di prima Ciao Vediamo cos'hai Ci pensa l'infermiera Bevi questo Dobbiamo creare una pozione Per ricostruire il braccio a Harry C'è anche Malfoy Perché anche Malfoy Li ha presi di santa ragione Cosa abbiamo trovato? Il cavaliere Ah ci ha sbloccato una porta Mi sa che possiamo proseguire allora Perché qui non vedo in giro i pezzi per creare la pozione Allora ho trovato il ragno rosso Mettiamolo qua Quindi il primo ingrediente l'ho trovato Dobbiamo usare Madame Chips Ok abbiamo aperto L'armadio Tocca a Ermione Allora procediamo E possiamo raccattare sta piantina Vieni qua Dai che ti usiamo per rompere il vetro E abbiamo trovato il secondo ingrediente Guarda come scappa Guarda come scappa Ci manca il braccio dell'omino Però questo che è l'unico scheletro che c'è in zona Ok ragazzi forse ho capito come fare Ho rimesso la testa allo scheletro Infatti è sceso Guarda come balla Adesso esplode Però guarda che movimenti Bravo ballerino Bye bye Il tipo si era stancato dei suoi passi Allora forse ce l'abbiamo fatta Tieni Harry Bevi questa pozione Perfetto Braccio Recuperato Guarda come salta E' pieno di energie Attraversa anche le pareti Aia Il fotografo è Stato completamente Immobilizzato Ok abbiamo completato anche questo livello Direi che possiamo schippare tutto E rieccoci qua Allora direi che possiamo Terminare questo episodio Di Lego Harry Potter Qua Gran bell'episodio Siamo andati parecchio avanti Secondo me siamo già arrivati Più o meno alla metà del secondo film Come sempre ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Probabilmente questo video Ve l'avrò diviso in due parti E ci vediamo in un prossimo episodio Sempre qui Su Lego Harry Potter Collection Alla prossima ragazzi E ci vediamo in un prossimo episodio